Ciao, sono Davide, sto facendo questo video perché mi sono trasferito da due mesi in Portogallo ed essendo libero professionista avevo bisogno di una mano per aprire la parte IVA e fare tutti i documenti necessari per essere a regola, sia per quanto riguarda tutti i documenti, ad esempio il NIF, il NIS, sia per quanto riguarda proprio l'apertura dell'attività. Mi sono guardato un po' intorno, poi ho trovato Daniel, che vi consiglio assolutamente se avete la necessità di chiedere ad esempio lo status di residente non abituale, che mi ha aiutato a ottenerlo, se avete bisogno di aprire anche voi un'attività, siete libero professionisti oppure anche se avete bisogno di qualsiasi consiglio sui documenti da fare oppure su tutti i passaggi per fare la dichiarazione del reddito poi a fine anno. Quindi vi consiglio, sono rimasto molto contento e vi consiglio assolutamente di contattare Daniel se avete bisogno di un commercialista.